forza ragazzi oggi sono al vitamin store di viterbo vi faccio vedere la maglia originale da campione del mondo usi di alessandro ballanna originale ragazzi aggiudicata all'asta proprio dal vitamin store di viterbo allora vi faccio vedere le firme questo è alessandro ballanna questa è di cassani questa è di stefano collage questo è di marco velo e questa è di roberto pedito originale ragazzi al vitamin store chi la vuole vedere toccare e toccare dal vivo originale proprio data proprio da dallo stesso ballanna consegnata ecco qua ragazzi vitamin store di viterbo pollice in su sempre